Ti accompagniamo in questo dolore e per il sacrificio di Cristo fa che sappiamo amare come Egli ha amato noi. Ma cosa? Ma che succede? Ma che succede? Che sensazione strana. L'hai sentito anche tu? L'hai sentito anche voi? Sì, madre, la terra... La terra ha tremato. Ma che succede? Ma che succede? Scappate! Ma che succede? Ma che succede? Andiamoci dentro! Via via via! Scappiamo! Aiuto! Sono qui! Aiuto! Non solo mi aiuti! Mi prego! Valera! Ti va, ti va, per favore, aiutate, io ho paura! Cercate di aprire! Non ci riesco! Dobbiamo uscire, andiamo! Non posso uscire così! Volete volere per non far vedere le braccia? Andiamo! Non posso, non posso! Il tetto potrebbe frollare! Non posso! Andiamo! Aiuto! Stai bene? Sì, ma devi darmi una mano! Poi diremoci, andiamo qui! Non posso uscire! Non posso uscire! Non posso uscire così! Blanca e il nostro padre sono niente! Andiamo a prenderli! Aspetta, sembra che la scossa sia terminata! Sarò tranquillo solo quando li vedrò in salvo! Samuel! Blanca, attenta! Samuel! Ho la gamba! Non vedi che gli fa male? Non può restare dentro, c'è il rischio di altri crolli! Credo di essermela rotta! Calma! Sta tranquillo, Samuel! Occupatene tu! Sai fare un laccio emostatico? Credo di sì! Ma tu dove vai adesso? Devo portare via mio padre! Qual è l'appartamento? Il principale! Però aspetta! Aspetta! Tu stesso hai detto che è pericoloso! La casa può crollare, Diego! Ho un dolore tremendo! Perché? Ecco! Dio mio, perdonaci! Non scatenare di nuovo la tua furia su di noi! È stato orribile! Piano, te sono pochino! Oh, Ramona! Che paura! Credevo che la terra ci inghiottisse! Pazzesco! Quel tramito spaventoso sembrava non finissimo! Tranquilla, tranquilla! Lontano dagli edifici siamo al sicuro! Con un sisma del genere è facile che ci siano dei crolli! E Maria Luisa dov'è? Eccola lì! Tremma come una foglia! Oh, la testa! La mia testa! Credevo che fosse la fine! Come vedi, non è così! Donna Trini, come state? Bene, caro! Ti fa molto male, non riesco a respirare! Siamo in salvo, tesoro! Sì, madre, è tutto finito! Per ora! E chi ci dice che non si ripeteranno le scosse? Sembra l'apocalisse, la fine dei tempi! E Susana? E lì, si è salvata! Sì! 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 Sto tempo, non lo sta bene! Adela! Fabiana! Donna Susana, sedetemi! Donna! Fabiana! Va un po' bene! State bene? Sì, grazie! Sì, sì, Fabiana! Siamo solo terrorizzati! Siamo riusciti a scendere senza difficoltà! Da questa penseremo di non poterla raccontare! Lolita, non è con voi! Dov'è? Come? Non è scesa! Noi credevamo che fosse già qui fuori! No, io qui non l'ho vista! Non c'è da stupirsi! È quasi impossibile incontrare qualcuno in questo caos! Andiamo, andiamo! No! No, no, no.